Ciao a tutti, benvenuti in questa seconda parte e partiamo subito Io avevo la spagna dei cartoni, ve l'ho detto, ed ero un fan esattamente di Braccio di Ferro Nel cover di Farsan, una cassetta, non so neanche dove l'ho pescata esattamente Forse l'avevo vinta una minifiera, non mi ricordo E sono un sacco di episodi di Braccio di Ferro Basta, che c'è da dire, è Braccio di Ferro, ve li Questa è una miniserie di Sherlock Holmes Si può trovare su YouTube tutti gli episodi Durano mezz'ora Alcuni sono veramente bellissimi E praticamente è Sherlock Holmes che indaga Indaga un po' come nei libri Non è come da adesso che si picchia con quello che è uscito dal cinema Non è fatto male Io amo questo personaggio, diciamo, con scalmo, intuitivo, che non si picchia Non mi ricordo niente con l'episodio Ipotesi di reato Praticamente si parla Ben Affleck, sempre il solito Samuel Jackson Un giovane promettente avvocato Per fare carriera è pronto a sacrificare i valori in cui crede E un uomo d'affari che sta cercando di rifarsi una vita Si incontrano Vabbè, è un thriller A me sinceramente, se non me lo ricordo, vuol dire che non è forse il massimo Il Signore degli Anelli La compagna dell'anello Io non ho visto l'Hobbit Però, ragazzi, ho letto il libro Del Signore degli Anelli E ho visto i film Che c'è da dire? Io, per quanto assurdo sia Io ti favo i cattivi Ragazzi, io ti favo i cattivi Praticamente a me piaceva Eoden E Boromira A me piacevano, ragazzi, mi piacevano quelli là E... Faramira anche Mi piacevano poi Quei sfigazio Oh, andiamo qua anche I cartoni di Damask Questo mi piace da matti Questa serie è incredibile Perché è molto, abbastanza fedele Anche al film Perché lui se ne mette la maschera Insomma A me fa piegare ancora questa serie di cartoni Il labbisbetico domandos Qua ce l'ho sul computer Adriano Cilentano E con la grandissima gnocca di Ornella Muti Che è ancora figa Non è che adesso è brutta E la storia di questo qui Di quest'Elia Che è un agricoltore In un paesino Nei pressi, appunto, di Voghera Che praticamente ha la fama Di un carattere del cavolo Quindi che lo picchieresti con i bastoni E rifiuta le donne Eccetera Vive solo con la governante Una sera arriva Busa alla porta Questa tronco di gnocca Che appunto è Ornella Muti Si fa ospitare per una sera Anche se lui non vuole Praticamente là Poi nasce tutta la storia Che porterà poi E vabbè Non vi spoilerò niente Era bellissima la partita di basket Finale di lui Che da solo sconfigge Quello di Marte Duffy Eccetera E poi Ragazzi Page M Io me lo guardo ancora da matti Questo Questo Per me insieme È uno dei miei film preferiti Anche il bisbettico domato Ce l'ho ancora Assurdo A me piace da matti Michael Jordan Io ci sono cresciuto Questo film E poi non so voi Chi non l'ha visto Se lo guardi per favore Per quanto a me sta su Cazzo Bus Bunny Io amo Taz Quindi Figuriamo Taz non appare mai Allora Si parla di Gnocca Eccolo qua Tomb Raider Il primo Lo vinci Ce l'avevo anche su computer Poi l'ho cancellato C'è un po' Cioè La storia di Lara Croft Che deve salvare Tut Tut In realtà si guarda Perché c'è questa qua Non ci stiamo a piegare Per i Fonderi Io l'ho guardato per questa Però Vabbè Sarà un discorso maschilista Però ragazzi Siamo uomini anche noi Nel film Che dire Il film Diciamo A tratti Un po' A me mi ha annoiato A tratti E per qualcuno Sarà figo Però a me Non lo so Non mi ha lasciato grandi cose A parte un po' La Jolie E un po' Diciamo qualche scena Ma poi in realtà Ma anche qui Io ti farò il cattivo Il cattivo A me A me piaceva Sono gusti Quelli sono gusti personali Allora Secondo me Amavo il calcio Questa È praticamente La seconda parte Di ogni squadra Che partecipava Nel 2002 Mondiali Faceva vedere I giocatori più rappresentativi Mi stupisco Che ne abbia avute Anche la Tunisia Di giocatori rappresentativi Che c'è da dire Una cassetta di calcio Cassetta di Dragon Ball Non l'ho mai più fatta Perché poi Ma lo scaricai Quindi Arrivederci Filmoni Quindi Terminator Che c'è da dire Il Terminator Chi non l'ha visto Non lo so Bisognerebbe Farlo vedere Perché comunque È un bel film Di James Cameron Questo In seguito Mi è piaciuto da Matti Poi dal 3 Ho iniziato a fare Delle cose Il 3 Poi Poi è chiaro Che ci fanno i soldi Allora devono farne Sempre Sti cavolo Di Re Quel Se Quel Pre Quel Report Cazzate varie Io il primo Me lo guardo Unitanto ancora Ce l'ho sul computer È un bel film Sicuramente Poi è Di un ottimo regista Ah Questo Me lo sarò consumato Da piccolo Ancanzi Nel 90 Lo so che molti Storceranno il naso Perché metto Vicino Terminator Poi metto Sta roba Però ragazzi Io da piccolo Me li sono scoppiati Tutte Le commedie italiane Le sono viste tutte Se dovessi fare un film Guarderei questo Per non fare Le stesse cose Qua C'è un po' di tutto C'è Patantuono Che farà ridere A qualcuno A me no C'è Bo De Sica Vabbè C'è Esio Greggio Che non mi fa ridere C'è Chi c'era C'è Andrea Roncato Che non mi ha mai fatto ridere Mario Orfei Che è mancato Poveria Ma non è mai stata attrice Poi C'è la cucinotta Che è un bel pezzo Di gnocca Insomma C'era un po' di roba Diciamo che È un film Macio all'italiana Io ce l'ho ancora Il computer Ogni tanto Mi strappo Qualche risata Di isperazione A questo Questa è la saga Mondo di dinosauri Come voi ben sapete Nella parte 1 C'era la storia Di quel poveraccio Volante Che doveva rimorchiare Morto Qua Parla della fine Quindi della fine Di dinosauri Con l'asteroide Vero Non vero Me ne frega niente Anche qui C'è la storia Praticamente Di questi Questo tirannosauro Madre Che si fa Un mazzo Così Per crescere Due piccini Perché poi Sono grossi Come delle porte E arriva l'asteroide Li fa fuori E tu Dici Ma Porca miseria Ti si affezioni Quasi esti qua Non me li far crepare Così Va bene Lo so che è successo Però Cosa ho fatto Dalla BBC Presentato Da macchina del tempo Ogni fine puntata C'è la spiegazione Di come vengono fatte Con l'animatronics Eccetera Comunque bello Da vedere Capricciola italiana Una cassetta Questo è il nostro Dove l'ho presa Una cassetta Dove ci sono Degli spezzoni Di vari comici italiani Di vari registi C'è Monicelli C'è Pasolini Bolognini Franco Rossi Pino Zacche Totò In due episodi In Il mostro Dalla Domenica Cosa sono le nuvole Boh Non me lo ricordo Evidentemente Niente particolare Questo è un film Che io ho amato Alla follia Me la sono consumata Games of New York Cameron Diaz Leonardo DiCaprio Daniel Day Levis Veramente crudo Film crudo La storia appunto Di Nel suo borgo Five Points Dove ci sono Queste bande Di immigrati I conigli morti I conigli morti E i nativi Si fronteggiano sempre Per spartirsi Il territorio Dove c'è appunto Il Bill Il macellaio Che io ho adorato Io amo tutti I cattivi Hanno rotto le scatole Sti buoni Capo dei nativi Capo dei nativi Ucide il reverendo Vallo Che guida I conigli morti Giustamente Morto Quindi Diventando il padrone In contrasto Da punto di Five Points Anni dopo Il figlio Che è sempre Questo cavolo Di Di Caprio Vuole vendetta Eccetera Si finge Alle atti del nemico E conosce La donna Di questo Bill Che è Cameron Diaz Ebbene Un bel film A me è piaciuto Poi questo tizio Con queste mannaie Da macellare Che ci combaci Si picchia Io Veramente Lo amo Uno dei miei film Non è preferiti Però lo vedo sempre Con molto piacere Anche questo Lo vedo molto volentieri Insider Detto la verità Con Al Pacino Il grande Al Pacino E Russell Crow Un film di denuncia Appunto Questo direttore Della ricerca scientifica Fanno questa Mega battaglia Contro La rete televisiva CBS Perché Avevano fatto un servizio Questi qua Sulle sigarette Sulle cose nocive Quindi Qua ovviamente Finisce bene Però Un film Sicuramente Da vedere Questo ovviamente Non me lo ricordo U571 Boh Credo che sia di guerra Non me lo ricordo Assolutamente Vuol dire Che non mi è piaciuto Operazione Sottoveste Penso che Molti di voi Lo conosceranno Con Con Cary Grant Eccetera Parla Appunto Di questi qui Che sono C'è questa Incursione Giapponese Insomma Nei grandi film Effettivamente Questo ancora Ancora da vedere C'è Come ho detto Prima amavo i documentari Quindi Leggito E qua Astronomia Qua si parla Inizia il viaggio Nell'universo Vabbè Avete visto Che la NASA Scoperta I pianeti Che sembrano Anche la Terra Poi chiudo La seconda parte Con questo Willigator Che è un personaggio L'Anna Barbera Io da piccolo Non so perché Mi ci impazzivo Con questi qua Mi trollavo Questi qua Questa è la seconda parte Ci sarà la terza Credo anche una quarta parte Perché ci sono veramente tante Quindi vi do appuntamento Alla terza parte Della mia collezione E non è neanche finita qua Nonostante tutte queste parti Ce ne saranno ancora Quindi Vai con la terza parte Tra pochissimo